Ciao a tutti amici carissimi e ben ritrovati sul canale. Oggi vi presento qualcosa che a me è piaciuto tanto e spero che possa piacere anche a voi. Se non sei iscritto, iscriviti al canale, attiva la campanellina e non dimenticarti di mettere un like in su. Anzi non uno, io ne aspetto tantissimi e spero che questo video possa piacere a tutti e che possiate condividerlo sui vostri social. Quindi vi aspetto numerosissimi, un abbraccio caloroso a tutti, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!